Un centro studi storico urbanistico dedicato allo storico Raffaele Colapietra. Il progetto prosegue e se ne ha parlato in un incontro ieri organizzato da Enrico Sconci. Il promotore della proposta è l'urbanista Pierluigi Properzi, amico e che con Colapietra ha collaborato nello studio della storia d'Italia e del Mezzogiorno. Un centro studi, anche urbanistico laico, proprio così come era lui e come avrebbe voluto, non solo per la storia ma anche per l'urbanistica, ma anche un luogo di incontro libero e scevero da strumentalizzazioni, così lo pensa Properzi, che pensa ad un centro moderno, un centro digitale che potrebbe vedere la collaborazione di Università e Istituto Nazionale di Urbanistica per non perdere il grande patrimonio che ha lasciato. Ha visto in quella visione laica che Raffaele Colapietra aveva della società guilana e quindi una struttura leggera, molto leggera, senza strumentalizzazioni da parte dei diversi soggetti esterni e basata, in termini molto sintetici, su una disponibilità di spazi dove organizzare l'enorme attività di Raffaele Colapietra che va oggi ricostruita come stanno già facendo diverse istituzioni, ma soprattutto va digitalizzata. Sono necessarie borse di studio, borse di studio quindi che in via continuativa vengano garantite dalle istituzioni, così da poter alimentare il processo di ricerca ed infine spazi che siano gestiti e garantiti da enti pubblici. Questo si può fare quindi con pochissime risorse e con un po' di buona volontà. Il ricordo di Raffaele Colapietra è legato non solo alla sua tradizione di storico ma anche al suo impegno civile. Quindi a me farebbe molto piacere che questi spazi fossero attrezzati anche per garantire un dibattito sulla città esterno da condizionamenti di qualsiasi tipo.